L'Italia è uno stile di vita, è qualcosa che uno si porta dentro naturalmente, non si può costruire o inventare. Siamo l'eccellenza assoluta come stile, come civiltà, come cibo, come abitudini di vita, come filosofia di vita, questo disincanto mischiato a un'immaginazione, a una voglia di cambiare. Ognuno di noi ha un DNA che trasmette, succede attraverso le generazioni, che diventano un modo di essere che diventa stile. Il vino è diventato il prodotto più affascinante che rappresenta l'Italia. Parla veramente di tutto quello che di più bello c'è dentro la nostra italianità la maniera più bella per me, per rilassarmi, per pensare, per immaginare e attraversare città diverse, paesaggi diversi, genti, posti. Io credo che il più bel esempio di amicizia è quello fra i fratelli, la fratellanza. Grazie a tutti.